Ben trovati su TR24 Sport. Parliamo in apertura di calcio perché non c'è stato nulla da fare per il Bologna che nella sfida che ha chiuso la quindicesima giornata di Serie A ha perso in casa contro il Milan nel match che comunque ha visto il ritorno di Sinisa Miaklovic sulla panchina. Rosso-blu, sentiamo. Questa volta l'approccio non è stato certo dei migliori e il Bologna ha così pagato Dazio la voglia del Milan di prendersi tre punti, incassando uno stop dopo la splendida impresa di Napoli. Sono infatti i rossoneri a procurarsi il vantaggio già al quarto d'ora con Piontek che scappa via Bani, prima di venire tamponato dal difensore di casa. Chiffi assegna un penalty che il pistolero polacco trasforma nell'1-0 per gli ospiti. All'atleta cinquesimo ci pensa poi Suso a inventare letteralmente l'assist per Teo Hernandez. Il terzino d'assalto dei rossoneri si fa trovare pronto all'appuntamento col gol. Lo stesso Hernandez però cinque minuti più tardi si rende protagonista dell'accorcio del Bologna, deviando alle spalle di Donna Rumma sul corner di Sansone e riaprendo di fatto il match. Non è così però perché proprio alla ripresa delle operazioni il Bologna lascia a campo libero a Jack Bonaventura che col piazzato dal limite riporta il diavolo avanti di due. Solo nel finale il Bologna riesce a procurarsi il rigore della speranza, quello concesso via VAR per la spinta di Hernandez su Orsolini e poi trasformato da Sansone. Negli ultimi minuti però è solo il Milan a sferare il gol e il Bologna deve così incassare un KO che lascia il rosso-blu a quota 16 punti in classifica. In Serie C invece il Cesena ha dovuto incassare una sconfitta pesantissima nel match contro il Fano. Bianconeri colpiti subito a freddo e poi trafitti a più riprese dai rigenerati marchigiani sino allo 0-4 finale. Sentiamo. Pesante stop per il Cesena che paga carissimo prezzo, un inizio shock nella sfida casalinga contro il Fano. Sono propri marchigiani a spalancarsi le porte della vittoria trovando un rigore già al secondo minuto per un fallo commesso da Brunetti su Barbutti appena dentro all'area. Il difensore bianconero viene subito espulso dall'arbitro Cubicciotti e il Fano trasforma dal dischetto proprio con Barbutti. Sette minuti più tardi è già 0-2 con la punizione sulla trequarti di Baldini che trova prima la sponda di Gatti e poi la gran girata di Di Sabatino per battere Marsoni. Il Cesena non ci sta e con una diagonale di Valeri prova ad accorciare ma Boccioletti salva sulla linea di porta. Sul ribaltamento del fronte è decisivo Marson per respingere la violenta battuta di Carpani. Alla ventunesimo c'è poi una rete annullata ai padroni di casa con Russini pescato in fuorigioco prima della deviazione vincente mentre al trentaseiesimo è Valeri a cercare l'assist per Borello che non ci arriva per un softball. Il primo tempo si chiude con la botta dalla distanza di Buttic che costringe Viscovo a rifugiarsi in corner. Poi alla ripresa delle operazioni il Fano chiude definitivamente i conti. Il lancio da centrocampo permette a Barbutti di scavalcare Marson in uscita per siglare il punto dello 0-3. Il Cesena si rende pericoloso solo al settantaseiesimo con la doppia chance sprecata nel giro di un minuto da Sarau e Brignani. Ma il Fano è implacabile e a 5 dalla fine trova anche il poker sull'asse Said Canis che certifica il clamoroso capitombolo dei bianconeri. Solo delusioni per le squadre romagnole in terza serie dopo il pesante rovescio che abbiamo appena visto nell'anticipo anche Ravenna, Imolese e Rimini hanno collezionato sconfitte altrettanto pesanti. Vediamo. Il weekend da tregenda delle romagnoli in serie C si è chiuso con un parziale di 0 gol fatti e 11 incassati per 4 sconfitte complessive che rendono la classifica un autentico incubo. Dopo lo 0-4 del Cesena col Fano anche Rimini, Ravenna e Imolese sono andati capò con il rosso-blu che quantomeno non hanno sfigurato nel confronto di Padova perso dopo una prestazione comunque coraggiosa un gol annullato a schiavi per fuorigioco e due reti incassate nel finale quella di Ronaldo alla CR7 con un colpo di testa che sorprende Rossi e la successiva sassata di Mandorlini che archivia la gara dell'Uganio sul 2-0. Ben diverso il tenore della caduta del Ravenna che non entra mai in partita col Suttirol complice un rigore concesso per fallo di Purro sul Casiraghi e trasformato da Morosini già all'undicesimo. La reazione della squadra di Foschi è inconsistente e allora Mazzocchi archivia la pratica con un colpo di testa che bacia il palo alla destra di Cincilla peggio ancora sta in Rimini il Piacenza infierisce sul 3-0 sbloccando il match con Pappone al 26esimo che deposita alle spalle di Sala. Nella ripresa restano inascoltate le proteste degli ospiti per un rigore negato a Nava e allora gli emiliani la chiudono col piazzato di Corradi prima e col grandestro all'incrocio di Della Latta in pieno recupero lasciando la squadra di Colleghi tristemente in ultima posizione. Siamo adesso al basket nella giornata di Serie A che ha visto la prima capitolazione della Virtus nella trasferta di Cremona la Fortitudo ha invece colto la terza vittoria consecutiva superando nettamente Trento col punteggio di 93 a 68 Vediamo Solida, cinica, mai in pericolo una delle migliori se non la miglior recita stagionale sin qui ha consentito la Fortitudo di dominare il match contro Trento partita che alla vigilia nascondeva non trascurabili insidie che i bianco-blu bolognesi sono invece riusciti a condurre agevolmente in porto senza mai mettere a rischio la conquista dei due punti in classifica Vittoria del collettivo se ce n'è una tutti hanno portato il proprio prezioso mattoncino alla causa per una Fortitudo che con i suoi sette successi in 11 partite sin qui disputate sente già più vicino l'obiettivo salvezza ma può iniziare a pensare a un traguardo anche più prestigioso a cominciare dalla Final 8 di Coppa Italia che si disputerà a febbraio alla Vitri Friguarena di Pesaro Nel contesto di una sfida inedita per il massimo campionato la Fortitudo è partita subito molto forte chiudendo il primo quarto su un eloquente 30-12 di punteggio infallibile Cassius Robertson e attivissimo Martin Luna nei primi dieci minuti nel corso dei quali il solco è stato scavato grazie anche all'efficacia di un Henry Sims capace di tagliare letteralmente a fette la difesa avversaria mettendo a dura prova i tabelloni del Paladozza il resto del match si è tradotto in una sorta di pura accademia con tutti i giocatori della Pompea bravi nel rispondere presente e disputare nessuno escluso una partita concreta e gagliarda partendo da Pietro Aradori che con i suoi sette punti concentrati nei primi spiccioli del terzo quarto ha firmato il massimo vantaggio del match più 25 che si rivelerà poi anche lo scarto finale fra le due squadre e in A2 intanto arriva un nuovo tris di vittorie sentiamo il modo più bello ma anche il più rocambolesco per rimanere capolista in solitaria della Serie A2 l'ha trovato l'ora sera vera l'incredibile tripla pescata dal mazzo da Thomas ad un secondo dal termine della sfida di Mantova rappresenta al meglio tutto lo spirito indomito di una squadra quella di Cancellieri che ormai ha forgiato un carattere d'acciaio gli Stinks guidano per quasi tutta la partita Clark è in serata di grazia ma Ravenna rientra nel quarto quarto dando vita ad un finale di gara che si trasforma in una guerra di neri tanti liberi sprecati non così la tripla di Thomas che mantiene i giallorossi davanti a tutti anche ad una Forlì un po' svagata in apertura di gara contro la Sigeco poi però implacabile quando si alza il livello difensivo nel terzo periodo l'astinenza da canestri di Piacenza permette a Giacchetti di prendere definitivamente in mano le redini dell'incontro 25 i punti messi a segno dal capitano e di arrivare quasi in carrozza all'81-67 finale che vede sugli scudi anche Rash e un solidissimo bruttino il secondo tris di fila è servito per la Romagna del basket grazie anche a Imola sempre più sicura del fatto suo l'Andrea Costa non stecca contro un Orzinovi ultima in classifica ma capace di volare sino al più 13 prima che Bowers e compagni non rientrino ad inizio del terzo quarto e poi allunghino per gestire con relativa tranquillità sino al definitivo 72-79 e adesso sentiamo qual è l'opinione di Luciano Poggi una giornata negativa è una giornata che bisogna assolutamente mettere in archivio e dimenticare di cosa parlo? parlo della giornata di campionato di Serie C vista dal punto di vista delle quattro romagnole una giornata negativa sì perché sono arrivati quattro sonori insuccessi è la prima volta che succede che tutte e quattro siano uscite sconfitte dai propri match e ora davvero per la Romagna e per le squadre della Romagna almeno per buona parte di esse il momento è sicuramente un momento che bisogna prendere assolutamente in considerazione e dal quale bisogna assolutamente uscire momento negativo come dicevo il Rimini ultimo in classifica addirittura oggi retrocesso in Serie D Limolese e il Ravenna che non sono molto distanti a causa delle recenti sconfitte e poi il Cesena che comunque beneficia di una classifica di maggiore tranquillità 21 punti per i bianconeri cesenati il Capitombolo contro il Fano il Capitombolo casalingo contro il Fano a mio avviso come del resto succede per tutte le partite dovuto all'episodio quello del calcio di rigore e all'espulsione del giocatore deve far preoccupare ma potrebbe invece servire come sonoro ceffone a riprendere in mano quella che è la realtà effettiva della squadra ed è tutto per quanto riguarda questa nostra edizione grazie per essere stati qui con noi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti